ha lasciato la casa questo è poco ma sicuro carissimi amici intanto vi do il benvenuto qui sul canale di pausa caffè news e analizziamo quel che sta succedendo all'interno e all'esterno della casa del grande fratello perché qui si parla di clamorosa uscita di scena nella notte ed ecco perché spiegato che la mattina c'è stata la sorpresa diciamo la scoperta erano esattamente le due e un quarto del mattino quando la geffina entra in confessionale e da lì non esce più entra ma non esce e non è la prima volta che capita ma quando accade è sempre interessante per il momento nessuno sa cosa stia succedendo esattamente ma sembrerebbe che non sia niente di buono per la giovane i ragazzi dentro poi hanno reagito veramente male e quando la voce del grande fratello lo ha comunicato ai geffini beh tutti sono rimasti così all'occhi senza senza parole e hanno iniziato a fare congetture sul motivo dell'abbandono così veloce così strano insomma qualcosa bolliva in pentola ma nemmeno loro sapevano cosa fosse hanno cominciato a dire penso che abbia avuto una situazione grave a casa ha ipotizzato così giglio forse è successo qualcosa ai suoi genitori ha pensato lago la chiamavano sempre in confessionale ci stava un sacco di tempo secondo me la chiamavano spesso in confessionale per tranquillizzarla dato che non parlava italiano magari è voluta andarsene via perché qua non parlava con nessuno insomma ognuno dice la sua e sì sto parlando di maica benedicto cioè la geffina prestata dal gran hermano spagnolo che poi sarebbe la copia del grande fratello che tocca capire chi ha copiato chi la ragazza alle due e un quarto di notte fra il 23 il 24 ottobre è entrata in confessionale è solo che da lì non è più uscita dopo un po sempre intorno a quell'ora so qualche minuto dopo il grande fratello scrive un comunicato ufficiale sui social e va a confermare tutto questo dicendo maica benedicto questa sera ha lasciato la casa del grande fratello per poter tornare in quella del gran hermano in spagna solo che poi lì sono partite un po di ipotesi e sì jessica ha detto ma forse è una grande star della spagna ed è venuta qua per fare un'ospitata così all'acqua di rose magari è un influencer luca calvani invece ha pensato che maica fosse una grande chef internazionale che si è dovuta un attimino così tornare a casa per qualche motivo legato strettamente al lavoro qua bella sparata grossa così ha cucinato benissimo ha detto ha fatto una paella buonissima stasera e ha solo 25 anni lei non è che lavora in farmacia insomma ha sottolineato il fatto che probabilmente sia stata una chef stellata o giù di lì poi enzo paolo turchi ci ha messo la sua e ha dedotto che si tratti di un problema legato alla famiglia cioè alla sua famiglia dicendo oggi al confessionale ci è andata 20 volte mica una anche di sua spontanea volontà e se vai di tua spontanea volontà è perché c'è un attimino una preoccupazione vuoi sapere qualcosina poi è stata anche raga la volta di maria vittoria minghetti insomma ognuno ha detto la sua secondo lei maica è andata a vivere in tugurio dicendo ho sentito che oggi sistemavano il tugurio forse l'hanno mandata a dormire lì credo che sia una delle meno plausibili comunque soltanto congettura amici dovremmo aspettare qualche non dico giorni è qualche ora per capire cosa sia veramente accaduto quindi rimanete sintonizzati su pausa caffè news se ci sono aggiornamenti ve li porterò molto volentieri il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video